Un portiere non fa gol ma li para? Se li avresti fatti oggi avresti fatto una tripletta tranquillamente? Vabbè una tripletta no, però diciamo che oggi è andata bene. E che dire, li fatti no, però voglio dire non è che ho fatto interventi chissà, però comunque voglio dire è andata abbastanza bene. Sicuramente sintomo questo di una buona preparazione, approfitta della telecamera magari per dire qualcosa al grande preparatore. E vabbè che dire, l'ho sentito prima quello che diceva su di me, quindi l'ha detto più lui che io. Quindi che dire, con lui mi sto allenando bene, con voglia, anche perché l'anno scorso ho passato un anno bruttissimo a livello societario, organizzativo e tutto. E quest'anno mi viene proprio la voglia di venire al campo ed allenarmi bene. Che partita è stata oggi? Una partita molto, direi, per noi era molto importante, perché se vincevamo oggi avevamo passato il turno. Quindi per noi era una partita davvero importante. Per loro li ho visti determinati, volevo vincere, li ho visti pressavano, però sono arrivati poco nell'area di rigore. Infatti ci sono state solo due o tre conclusioni così. Però noi come al solo li abbiamo sbagliato tante valle sotto la porta, vabbè però ci sta ormai di questa versa, l'abbiamo capito. Però niente, è una partita importante, però altrettanto bella a fine del risultato che abbiamo visto.